eccoci di nuovo qua e oggi vi farò vedere di come cambiare colore alle cose in questo caso un bellissimo vestito di una ragazzuola un bel blu elettrico siete pronti ma proprio pronti let's get started bene eccoci all'interno di photoshop come vi dicevo la ragazza indossa un bel vestito blu blu elettrico allora come prima cosa dobbiamo andare a selezionare il blu del vestito in questo caso utilizzeremo lo strumento selezione eccolo cerchiamo di essere il più precisi possibili scusate perché praticamente ci eviterà del lavoro dopo per poter recuperare quelle zone dove non siamo stati alquanto precisi rimaste queste zone sotto ingrandiamo un po così magari lo vediamo meglio eccolo qua bene così eccolo così perfetto adesso se magari vogliamo raffinare un po la selezione ci spostiamo ci spostiamo sullo strumento maschera maschera selezione eccolo qua e così vediamo le parti dove c'è la selezione le parti dove non c'è la selezione in questo caso la parte che vedete è stata selezionata selezionata di più di quello che serviva quindi pennello nero e andiamo sopra riempiendo lo spazio scoperto in questo caso di parte invece ce l'abbiamo di meno quindi pennello bianco ecco qua andiamo sopra vediamo questa parte per esempio vedete questa parte qui non è ben selezionata io ripeto sto cercando di curare più possibili dettagli anche se diciamo non è così quando la foto la ingrandiamo non è così evidente ora dobbiamo portarci sopra e fare questa cosa così cerchiamo di selezionare selezionare questa parte che era la spio sposta quindi invece aveva la posizionazione oscura quindi qui invece un po andiamo andando sul braccio quindi ripeto io sto facendo una selezione più precisa possibile anche perché laddove dopo cambieremo la tonalità se resta qualcosa scoperto del vecchio colore si noterà e si noterà bene insomma cercate di essere più ripeto più precisi possibili ok in questo caso il vestito non era ben selezionato ok bene 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 ok rivediamo togliamo la maschera maschera selezione ed eccola qua a questo punto per un primo un primo step per il cambio del colore l'unica cosa che dobbiamo fare è quella di aggiungere un livello di regolazione con valori tonali no scusate tonalità saturazione eccolo qua ah già con questa prima fase noi possiamo cambiare il colore del vestito muovendoci infatti sul cursore della tonalità come vedete il vestito cambia di colore eccolo qua quindi può potete dare meno saturazione potete fare ecco qua vedete quindi lo potete scurire rimettiamolo a zero ok perché lo rimettiamo a zero perché adesso vi faccio vedere un'altra cosa un altro sistema per poter colorare il vestito sopra il livello sfondo quindi il livello del soggetto andiamo a creare un altro livello di regolazione in questo caso però tinta unita scegliamo un colore qualsiasi magari un rosso eccolo qua e diamo ok adesso però quello che dobbiamo fare è trascinare la maschera del vestito su questo livello qui quindi cliccate su option e tenendo premuto option selezionate la maschera e trascinatela sul livello eccolo qua eccolo come vedete il vestito il colore è piatto ma non vi preoccupate perché il nostro soccorso viene il livello di fusione con o tonalità o colore non so se ci fate caso ma la tonalità non dà eccessivo risalto alle ombre cosa che invece noi vogliamo fare eccolo qua abbiamo ottenuto lo stesso risultato però facendo e comportandoci in maniera diversa in questo caso il discorso del ecco vedete anche qua possiamo cambiare il colore al nostro piacimento bene sì ma a questo punto se uno dice ma io se il vestito lo voglio nero o lo voglio bianco come facciamo niente paura creiamo un altro livello un livello di scusate un attimo eccolo qua un livello di un altro livello di tonalità saturazione ok però deve stare sopra il soggetto livello di regolazione e la cosa da fare è togliere la saturazione ops scusate non avevo diselezionato questo ecco qua togliere completamente la saturazione a zerarla ora creare il gruppo e metterlo all'interno del gruppo ora invece la maschera di livello che abbiamo fatto prima quella lì che riguardava il vestito invece di spostarla sul livello sul livello sottostante la mettiamo sul gruppo quindi stessa opzione stessa operazione option e cliccare su sul gruppo eccolo qua come potete vedere il soggetto l'incarnato le gambe insomma tutto quello che è al di fuori del vestito resta sul valore naturale mentre il vestito ha assunto questa tonalità grigia selezioniamo il livello di regolazione della tonalità e creiamo un altro livello di regolazione con valori tonali con i valori tonali possiamo a questo punto visto che riguarda il bianco ed il nero portare il vestito quindi fare un vestito nero o farlo bianco come se spostiamo il cursore del nero verso il centro voi vedete che il vestito tende a scurirsi però perde di dettaglio e in questo caso dobbiamo aumentare la parte bianca e viene fuori un bel brillante vedete eccolo qua così un bel nero brillante se invece il vestito lo vogliamo bianco non dobbiamo fare altro che rilasciare il cursore nero alla sua massima diciamo posizione ossia sull'estrema sinistra e invece di spostare il nero spostiamo il bianco eccolo qua a questo punto ci troviamo un bel vestito bianco brillante anche qui eccolo così perfetto bene ora però dovremo rimettere a posto le cose magari togliendo tutti questi livelli come facciamo selezioniamo i livelli in questione quindi dallo sfondo fino al gruppo e Roman E e uniamo tutto sullo stesso livello ora riattiviamo il livello superiore però cambiando il metodo di fusione eccolo qua scusate eccolo qua cambiando il metodo di fusione in moltiplica e non colore eccolo qua ricordate il colore precedente eccolo e da qui possiamo cambiare il vestito a nostro piacimento eccolo qua così ok bene bene anche questo tutorial è finito come al solito se vi è piaciuto un bel like un bel pollicione e se invece avete qualcosa da chiedermi qualche domanda non esitate a contattarmi oppure scrivetelo sotto nei commenti vi invito a iscrivervi al canale se volete essere sempre aggiornati sulle ultime novità di video tutorial e seguitemi su marcopallotto punto it su youtube che state vedendo quindi facebook instagram e twitter io per adesso vi saluto e mi raccomando keep in touch al prossimo video tutorial ciao 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 ciao